Sabato in prima mattina la nostra pagina Facebook è stata presa ad assalto. 4.500 commenti sui post dell'azienda nella pagina Facebook che avevano ad oggetto vaccini e vaccinazione. I commenti avevano una natura chiaramente offensiva. E' un fatto grave, indubbiamente. E' un fatto grave perché, soprattutto, offende il lavoro quotidiano che da circa due anni migliaia di operatori dell'azienda ASL Toscana Sud-Est fanno per gestire la situazione, per curare le persone, per stare a fianco alle persone che sono venute a contatto con il Covid-19. Noi continueremo l'attività vaccinale, i nostri camper sono presenti in ogni luogo e in ogni città del territorio della Sud-Est. E la cosa importante che dico alle persone che ancora hanno dei dubbi se vaccinarsi o meno, avvicinatevi al camper vaccinale. E parlate con i professionisti dell'ASL Toscana Sud-Est che vi potranno fornire, vi forniranno tutte le informazioni con le migliori evidenze scientifiche al momento. Dopodiché ognuno di noi farà la scelta se vaccinarsi o non vaccinarsi. Non vi può essere vaccinazione cosciente se non vi è un'informazione completa e consapevole. L'obiettivo dei camper è sì vaccinale, ma l'obiettivo dei camper è soprattutto quello di informare, di venire a contatto con le persone per fornire loro tutte le informazioni del caso. Questo è il nostro compito.